...Dossager Marter nella terza, Kaiser, Kalin nella quarta, infine Suter e Crocea Eccoli lanciatissimi nella prima curva, attenzione Suter davanti a tutti, non succede nulla nella prima curva, meno male E allora adesso via, via, attenzione, sempre affiancate alcune vetture Ma davanti a tutti c'è Suter, vediamo poi il passaggio qui ovviamente, anche già la tornante Dovremmo riuscire a distinguere un po' i numeri che sono belli grossi E allora 128, la seconda posizione per Schmidt, la terza, attenzione, si toccano la 295 di Farni Con la 211 che aveva ripreso posizione, Kaiser che ora ritorna e va all'attacco Si continua, attenzione perché ovviamente ci possono essere dei problemi di venti presi Durante la gara dal giudice, dal direttore di gara Mamma mia, che entrato! Questi passaggi alla misura del primo di quattro giri di finale Saranno solo quattro giri per conquistare i tre posti che portano sul podio I primi due se li stanno contendendo, come vedete la 287 e la 128 Le due vetture, la Peugeot 106 di Suter e poi in seconda posizione la Daiatsu di Schmidt Sono loro che stanno andando avanti molto vicini tra di loro Intanto viene esposto un warning per una delle vetture E' stata esposta una voce All'esterno però, sei sicuro? Alla vettura... Uno in croce Si ribaita, se rimane qui si ribaita Alla vettura 335 Ha quindi la vettura di Maitre Che occupa la quinta posizione attualmente Warning per lui Intanto sempre qua, nell'inizio dell'ultimo giro La Peugeot di Suter davanti alla Daiatsu Con loro contendersi la compagnia In questo gruppo A, in terza, inizialmente la calza Sono i tre Attenzione Si alza quasi La vettura di Schmidt è uscita dal Giochier Terzo Siamo al primo giro Ascora Prende vittaggio quindi Suter da Schmidt Schmidt va a prendere il New Jersey Cerchendo di avvicinarsi Ma rimane invariata la distanza E allora attenzione perché si delinea là Rivo in volata per i due Ma ha preso margine Con la Peugeot 106 Vince questa gara del campionato svizzero Sì Nel gruppo A La 287 di Suter Davanti alla 128 di Schmidt Terza posizione sul body Con la 244 È arrivato la